La nostra azienda è una azienda di innovazione perché siamo nati soltanto dieci anni fa con l'economia digitale, siamo al 100% digitali, quindi in realtà tutto quello che facciamo contribuisce a innovare. Se andiamo a vedere nelle fasi di vita, nella prima fase di vita quando è stato fondato Volagrati 16 anni fa, il contributo è stato quello di facilitare la vita di tutti nel riuscire ad andare a comprare i voli online. In Italia in realtà l'economia digitale e gli acquisti online erano molto più indietro e noi come altri operatori del settore abbiamo contribuito facendo dei siti facili, molto user friendly, a far sì che le persone finalmente effettivamente comprassero online. In questo momento la nuova frontiera dell'innovazione che noi vediamo sono gli smartphone, mobile e quindi noi stiamo molto lavorando perché ormai il grosso delle persone tende ad avere il primo approccio con le informazioni tramite telefonino e quindi l'obiettivo e lo scopo del futuro è quello di riuscire a far sì che tutte le informazioni siano sempre disponibili su via mobile, quindi tramite applicazioni o siti mobile per un utente quando viaggia. E quindi questo contribuisce sicuramente alla facilità di distribuire qualsiasi prodotto turistico. La nostra azienda può dare un contributo nella distribuzione digitale del prodotto Italia. Noi stiamo lavorando adesso con il Fondo Strategico Italiano e con altri soggetti per cercare di canalizzare in un unico progetto una distribuzione più efficiente del prodotto Italia all'estero. Il problema del prodotto Italia è un problema che noi chiamiamo di bookability, cioè l'Italia è ben conosciuta e il fatto che l'Italia sia una destinazione bellissima è noto a tutti gli utenti viaggiatori del mondo. La difficoltà è quella di poter prenotare sempre facilmente tutti i servizi perché molti operatori non sono ancora, molti servizi non sono ancora online e comunque non c'è una facilità di coordinamento tra diversi servizi. Quindi noi crediamo sia molto opportuno fare un progetto unico di Sistema Italia in cui tutti i servizi siano resi facilmente disponibili a tutti gli utenti viaggiatori italiani e stranieri soprattutto per poter prenotare in maniera, diciamo, digitalizzare tutta la fase di prenotazione e di informazione e quindi fruzione del prodotto Italia. E quindi noi crediamo molto in questo progetto. Uno degli aspetti fondamentali è cercare di fare un progetto unico di sistema. In Italia, come al solito, questa cosa non è facilissima e stiamo lavorando con questo. Sono qui a Roma anche oggi anche per questo motivo, per altri incontri che devo fare e speriamo di riuscirci. Grazie. 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 Grazie.